Wow, ma dove l'hai conosciuto? Lo rivedi? Ma perché pensi che prende il treno? Io la bici elettrica la uso per lavoro, risparmio tempo, soldi, rispetto all'ambiente e sono anche dimagrita. Si chiama mobilità sostenibile. Ma quando le maestre vengono tutte insieme in macchina? Con le amiche prendiamo l'autobus e andiamo al mercato generale. Se si chiama mobilità sostenibile non lo so. Io non chiedo a macchina, vado a piedi perché è buono per la salute. A presto!